episodio 9 subito a secco così grazie pro q90 per i due mesi di tier one buonasera buona pasquetta a tutti quanti siamo qui riuniti oggi so cosa dobbiamo fare perché ho caricato l'episodio in ritardo stefano grazie del regalo ho caricato l'episodio in ritardo quindi per chi di voi segue la youtube oggi avete visto il vecchio episodio e oggi adesso puntuali guardate sono le 9 del lunedì voilà si vede poco ma sono le 9 del lunedì e siamo subito belli carichi quindi passiamo subito al nostro inossidabile appuntamento ho ritirato le assicurazioni perché l'ho fatto durante la settimana con voi non ho portato l'aid out avanti come pensavo quindi siamo un pelo indietro con una quest però ricordo qual è la missione di oggi oggi in teoria dovremmo portare avanti ragman quindi di missioni su interchange è anche una giornata speciale perché c'è come potete vedere da qui attualmente un evento in corso perché c'è l'evento della primavera è tornata la neve su tarkov ci sono dei falò in giro per la mappa e dei scav invasati che sembrano rider ma non sono rider sembrano occultisti ma non sono occultisti grazie q90 per i cinque abbonamenti regalati gentilissimo e niente ci romperanno le scatole ma non andrò a inseguire le missioni di questa missione perché semplicemente non hanno delle ricompense particolarmente interessanti per noi abbiamo come sempre le solite tre ore tre ore e mezza per giocare e quindi non c'è tempo di fare cose così lunghe dobbiamo concentrarci sul rendere produttivo il poco che possiamo fare quindi elimina scav ok qua tutto a posto find and transfer pack of chlorine ne abbiamo uno solo allora allora situazione attuale jäger è a 0,05 grazie salo dei 27 mesi 0,05 dal passare di livello e noi possiamo fare questa esperienza o chiudendoci in factory e provando a sparare ai 6 su factory o con paradossalmente la find and transfer che ci dà uno 001 oppure con le tarkov shooter anche questa buona tra l'altro forse è fattibile considerato il fatto che questi nuovi fallò per l'evento faranno camperare un po di gente magari se me la gioco bene due persone ignare le becco detto questo però noi dobbiamo prima di tutto pensare a lui quindi iniziare le quest di interchange perché mancano pochi livelli e ci siamo quasi quindi vediamo un attimino il solito giro allora prapor è a posto prima di arrivare a livello ce ne manca ancora callo grazie dei 29 mesi therapist anche lei prima di arrivare a livello ne manca anche se ne manca anche di esperienza potremmo andare a buzz a fare al volo questa adesso vediamo un attimino skier ampiamente a posto siamo a un livello da farlo livello 3 p skipper a posto meccanico a posto ragman è messo peggio di tutti e jager ha bisogno di un piccolo aiutino quindi iniziamo con liberare spazio tra l'altro sarà veramente una farm di attrezzatura incredibile perché con questo evento è pieno di armature di altissimo livello quindi faccio che scartare immediatamente quelle scarse per togliermele dalle scatole e probabilmente ce ne saranno anche da raccogliere in giro ma non mi impegnerò troppo a farlo perché inox ha poco spazio nella stash quindi non abbiamo il lusso di poter comprare tutta questa roba di poter accumulare tutta questa roba quindi come vedete faccio spazio è buono così eccoci qua iniziamo subito con una scavata dove facciamo la scavata stris stris lo doubt in live di qualsiasi pmc ride o in stash e hanno fatto un sito per fare quella roba lì no inviami il link più che altro q90 l'ho ringraziato quattro dita immediatamente dopo che le ha donate l'ho fatto durante il discorso quindi forse si è perso ma l'ho ringraziato immediatamente mi hanno riconosciuto il plus questa è un'ottima domanda vediamo se lo scopriamo bravo ottima domanda in teoria sì in teoria sì boh partner plus fino al primo aprile 2025 e non è uno scherzo incredibile invialo qua giaco ti toglie il link ma io lo vedo comunque molto bello molto bello bello ma tu non mi mandare video perché non so che cacchio sono ok un video dove vedi ok va bene male però perché male perché vuol dire che hanno bucato banche dati quindi potrebbe essere un modo per sviluppare dei cheat molto male giaco bene sì per il partner plus ragazzi assolutamente eh sì eh sì partner plus molto bene grazie grazie a tutti voi che mi avete aiutato a raggiungere questo obiettivo allora non mi ricordo cosa ho fatto craftare nel laid out però so che dobbiamo trovare probabilmente bleach quindi candeggina dobbiamo trovare e il detergente per i vetri e il vd 40 quindi dobbiamo cercare nelle casse industriali così al volo non mi viene in mente dove siano ma proviamo a cercarle forse la cosa migliore è cercare direttamente di qua ah complimenti a voi senza di voi non l'avrei mica fatto l'obiettivo quindi bravi voi schedari 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 locale notturno ho fatto un video su youtube il video si chiama scav run da un milione di rubi una roba del genere lo trovi comunque sono sono la chiave la puoi trovare all'interno dell'ufficio di sviluppo che c'è nel quartiere dove sono in questo momento comunque c'è tutto quanto eh male male giaco vi ricordo che va bene anche eventualmente il vd 40 grosso tanto poi al massimo lo tagli nel laid out certo se troviamo subito quello piccolo meglio x ray questa mi potrebbe servire per una quest più avanti abbiamo poco spazio per il loot niente abbiamo il giusto spazio per il loot come non detto ragazzi porta della posta chiusa come sempre un buon segno qualcuno movimento là in fondo sembra scav ottimo segno tutto chiuso lo so che un video di axel l'ho visto già quello già aperto ho guardato non faccio no no faccio discard e poi faccio control click quindi il discard c'è in realtà ci passo sopra col mouse e premo catch praticamente in questo modo semplice ma si sono veloce ma premo semplicemente catch ve lo dico sempre ma control click vi sposta la roba direttamente nell'inventario alt click ve l'equipaggio vi faccio vedere quindi se io adesso voglio pescare subito questo control click e va direttamente nello zaino nel primo posto libero dando priorità allo zaino per primo come non ho la neve nelle mappe ce l'ho ce l'ho c'è c'è tranquilli lo dico prima di morire rovinosamente ma durante l'evento è probabile che l'attenzione di tutti i player sia attorno all'evento che si sposta in maniera casuale e potrebbe essere che io riesco a muovermi più tranquillamente in mappa mancanza di cuffie mi fa soffrire che evento c'è ci sono dei falò con intorno delle specie di invasati cultisti e bisogna ammazzarli tutti accendere i falò sparandogli con i colpi traccianti e mantenerli accesi per un minuto tutti e tre contemporaneamente per far spawnare un boss buono che fa regali comunque è roba che si può evitare speriamo che questo sia uno scav normale non mi ammazzi dalla finestra e ha aperto una porta se mi ammazza pace dicevo verso c'è la neve è come se c'è guarda che uscita abbiamo catacombs entrance to catacombs ok quindi dal vicino al tram ti trovi male ma stai ancora giocando xerox comune chiuso ottimo mickey buonasera hanno rimesso la neve per l'evento ragazzi eh passi un po' si gara in 22 quest'anno ancora no no non è la live di 6 ore fa ho caricato il video della settimana scorsa non era la live quella versus il sun riser non mi sembra mi servisse però no non mi serviva inox attualmente livello 20 no questo è lo scav te lo dico dopo prossimo video su armory ci sto lavorando il fucile perfetto parte 2 ho proprio preso in mano in questi giorni e spero di finirlo in settimana eh lo so lo so ice ho risposto tutti due insieme ah è facile xerox 27 grazie mille green c altro posto dove posso trovare la roba che mi serve probabilmente gli appartamenti in generale ho visto ho visto visto 4 io vedo tutto non ho grigliato oggi sono stato abbastanza bravo no la station office key madonna senza cuffie ho una paura comunque bene scartiamo questo no posto ok allora quindi cassetta degli attrezzi mi sembra che ce ne sia qualcuna qua di fianco cassetta degli attrezzi appartamenti secret stash e duffel bag questo sono il mio obiettivo la chiave è ancora qui questa conviene prenderla che magari ci serve per una missione ce l'abbiamo almeno già nell'inventario oh oh evento del freddo sono vicino ai boss quindi rischiamo tutto perché se non sono stati triggerati qua mi parte l'evento ok potrebbe essere che troviamo dei cadaveri se spari da scappare di karma dove avevo l'effetto qui quindi sono qui da qualche parte e qua l'effetto se ne va e qua l'effetto torna fuochino fuochino non più non più ah eccolo lì là c'è l'altro hanno fatto vittime nessuna vittima eh zerox ma come faccio e poi a che pro il sugaia grazie mille a che pro cosa ci guadagno è nulla nulla è lì 8700 100k è vecchiotto i suoi anni li ha cosa scartiamo? questo energy drink sto cercando la chiave non ho ancora niente che si ha qui? no sto delle armi qua per terra scartiamo tutte e due K74 Mark 16 yes Mark 16 anche perché scartiamo anche questo così è un'arma nuova se lo tiro fuori ci ficco dentro i 5-5-1 voilà è proprio questo streets mix il negozio c'è l'appartamento sopra la posta che ho verificato prima è un ottimo spawn non c'è la chiave chiave assente quindi la chiave sarà nella stanza chiusa che è l'unica a cui non posso accedere beh devi cercare più di una volta comunque non solo c'è Knaia anche sopra la posta dove ho appena controllato mazza che paura che mi fai tu shooter parte 8 mi puoi ricordare gentilmente di cosa si tratta quando ho fatto tutto il giro del mondo inutile starci ah qualsiasi mappa dove ti trovi a tuo agio stai tranquillo cerca l'occasione giusta non deve essere la stessa partita quindi giocatela veramente con calma non deve essere Ah Porca miseria Una market room Buona E quella di lighthouse Ma comunque buono Buona fuori dalle scatole ragazzi a costo di morire ho buona roba addosso ma non ho nulla per le quest mi conviene andare nella zona industriale è quella del faro corretto a costo di morire e dai però grazie mille o tier 2 robot warrior grazie 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 mille con le scintille grazie mille questa è medical se non vado errato no non più robot fatti medical madre di gesù maronna lucarman che paura incredibile che mi ha fatto quello lì fps su streets ne sto facendo 100 e qualcosina injector da usare se non hai tantissimi soldi ma gli injector li usi solo quando ne hai bisogno non necessariamente li vai a sprecare tp per la quale dove l'hai visto? non lo trovo più toby devo riprenderlo pizzo entrato a lutare dove stavo andando io per versus grazie mille è buono così dai ci accontentiamo e no aspetta però io ho un i9 13900k e una 4080 poiché risoluzione giochi tp nella cassa medica ma a cosa oddio meldonin forse per samples no non l'ho visto ma sai una cosa marco grazie mel di schiena sai una cosa marco ma sai che i video del primo l'aprile mi stanno iniziando a stufare è diventato talmente tanto forzato che non li apro nemmeno perché non ti gabbano più sai una volta era originale e non te l'aspettavi ma adesso tanto lo sai che tanto lo fanno tutti e quindi la pm la prendo perché potrebbe servire più avanti anche io gioco in 1440 punto esclamativo settings copia i miei settaggi magari c'è qualcosa che tu fai di diverso allora vendiamo questo vendiamo questo anche l'armatura no l'immagino però lo guarderò se ho tempo lo guardo promesso vediamo tutto ciò che è superfluo ad esempio sicuramente di superfluo abbiamo questa intanto andiamo a prendere nel layout quello che manca eh ho fatto l'errore sull'account principale nexus allora dunque clean wiper quindi mi manca in teoria solo vediamo quanto ci va a farli due ore 28 38 minuti quindi decisamente iniziamo da questo che in mezz'ora ce lo togliamo e poi lasciamo fare l'altro magari invece lo troviamo pure e questa quanto la vendiamo eh 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 sapete che questo potrebbe essere il primo wipe dove effettivamente abbiamo i soldi per upgradare la stash in realtà una roba la facciamo subito investiamo in un container più grande, questa roba mai fatta allora devo, allora iridio 3, 3 virtex ok, allora virtex no, l'ho fatto ma dopo tanta insistenza, stavolta invece sono io che propongo 1, 2 e 3 poi iridium tutti e 3 tank battery presa e poi mi servono ancora i military cable 4 perché uno lo avevo già voilà, fatto dovremmo poterlo prendere infatti sì ok quindi beta un pochino più grande quando si sblocca il quarto oggetto sul flea e quando fai il passaggio di quanto hai adesso di reputazione sul flea quindi allora missioni da andare a fare abbiamo detto che dovremmo martellare un pochino interchange ma prima no beh ci conviene fare interchange però facciamo prima una boschi che abbiamo l'SV98 qui e ci portiamo il CMS qualche soldino i colpi pistolina l'abbiamo e possiamo craftare qualcosa di utile soprattutto non vedo nulla aggiusto head out mi odi armi belle con i nox mi ero mi ero dimenticato va bene quindi woods dovevamo fare steady signal mi mancano due marker prendere il sample e la folder giusto forse abbiamo anche l'endlease può essere sì confermo perfetto abbiamo tutto allora ok marker 1 e 2 adesso è ricordarsi quali abbiamo già fatto il problema vi serve la mappa main scav ma assolutamente no 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 giocare da scav è solo perché hai paura di perdere cioè non lo dico come insulto però è solo gear fear fregatene cerca di superare il nervoso il nervoso di morire da pmc non devi essere nervoso per il gear che perdi il gear ci metti un attimo a rifarlo guarda quanta roba abbiamo con inox cioè ci metteremo di più a perderla che altro non te ne fregare non te ne fregare niente quando mori da pmc per il gear te devi fregare per altri motivi magari perché avevi una quest cose del genere ma il gear chi se ne fotte allora task steady signal mi manca il primo ok che è lungo il muro e il quarto che è a posto andiamo si va cioè a che prova vai da scab non progredisci di nulla accumuli solo no niente pistola 4 accumuli solo gear ma perché poi cosa free roll questa ragazza aveva una carabina della compressa poi avevo un'ottica ho preso la mira attraverso il mio non aspettando il rincolo mi sono preso un bel colpo a zonocchio a te ma è successo qualcosa di simile no semplicemente sei andato troppo vicino solitamente i mirini li guardi con una distanza notevole non hai l'occhio contro e poi tra l'altro rincolo dell'area compressa vuol dire che ci hai ficcato proprio l'occhio dentro no quando guardi col mirino sei a distanza tu avrai visto tutto nero con un buchino no devi stare con la testa abbastanza indietro forse ho una roba che ve lo può far vedere senza puntare un'arma aspetta ecco qua ok questo mirino è un cannocchialino vedi che dal punto sbagliato vedo di merda se riesco ad avvicinarmi sufficientemente vedo a campo intero poi non vi preoccupate del fatto che si vede poco ma questo è fatto per essere usato così attaccato all'occhio quelli dei fucili sono fatti per essere tenuti qui quindi hanno il punto focale indietro con la testa ed è il punto in cui vedi al massimo tutto quanto tra l'altro quel difetto lì è anche simulato in Tarkov lo vedete tutte le volte che siete in mira con un lungo come questo spostate la testa vedete per un attimo l'alone nero che è per simulare il fatto che la testa del PMC non è più perfettamente sul punto focale del mirino non esiste alcuna progressione per lo scab Tremor ma che computer hai raccontami un po' guardate vedete che capire sempre dove siamo in woods soprattutto con la neve che mi perdo ma ah ok siamo alla base della montagna ok quindi mi devo spostare di qua per le mie quest è tornata la neve si Ryzen 7 eh ok il computer un pochino scarsetto però mi sembra strano che proprio non ti girino le mappe giochi in 1080 spero 1080 settings tutto al minimo totale grazie Fabio grazie mille tutto al minimo e quanti fps fai pensa a trovare questi due sale inizio wipe lacrime ho capito che si sminchia tutto mamma agli estremi grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille april counter tremor silenzio spaventosissimo ragazzi grazie mille e sessanta non lo so e quattro a base alla gli lss sulle schede mille mi sembra si potesse fare comunque o no no forse c'ha ragione minchia c'ha ragione dlss sulle mille non c'era no serie 20 rtx caspita mi spara lo scav da lassù mi spara dlss sulle mille tennis piper di cartella presa non erano mai più 80 metri questi però purtroppo mizzica questo che peccato che peccato bravo lui 42 metri peccato troppo vicino sempre la fidanzatina ciao filippo abbiamo portato la 5-7 non importa perché abbiamo sia un altro di questi che armor da buttare praticamente ok 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 pistola non ho molto da portarmi dietro perché nel hideout anche non avevo nulla nulla quindi tocca comprare qualcosa che però sarà sicuramente mediocre p-skipper 3 forse la 5-7 ce l'ha sì 5-7 silenziata e posso comprare pure tutti gli altri ma sta a vedere che bene così bene così quella missione comunque quante volte l'ho già provato a fare sono già morto almeno tre volte domani dovrebbe sì 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 dovrebbero mickey no non dovrebbero che palle quello lì è entrato e mi ha cioppolato la testa grazie a tutti allora Grazie. 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 Anche quel problema lì. Migliora ma non svolta. Ok, mettiamola così. Pulire la cache serve... Allora, la cache sono per esempio tutte le anteprime dei fucili, degli oggetti, eccetera, eccetera. A volte si corrompe questa cosa, quindi ti conviene svuotarla e ricaricarti tutto da capo. Sarà capitato che a volte avete un'arma che non è fatta nel modo giusto esteticamente e a volte perché si corrompe la cache. Ma assolutamente no, 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 proprio no, Tremor. Non ce la fai proprio col processore. Come dice Gennaro, se prendi un 5800X3D e una scheda nuova svolti. Non tutte, e infatti quelle ancora grandi come una volta funzionano. No, a livello di prestazione non cambia nulla. Può alleggerire quando si gioca da tanto e è una cache parecchio grande perché hai visto tante armi, ma non... Tu stai con la 1080 e vai da Dio. Che processore hai, Nassi? Ma neanche se piangi, Michi. Dillo, che processore hai? Eh, sarà mica quello, Nassi? Sarà mica quello che dici? Sicuramente ti dà l'impatto più grande, però devi cambiare tutte e due, diciamo. La 1060 è ormai al collo tirato su Tarkov. Però, tra i due processore... Se devo tirare a indovinare, ma ti ripeto, tiro un po' a indovinare, secondo me è quello con l'impatto maggiore. Bene, che co? Eh, che spawn delle balle... Vabbè, più o meno. Ci può stare. Ah, figurati, Tremor. Ma se vuoi toglierti ogni dubbio, scrivi a quelli di PC Frog. Anche se non compri una mazza, sicuro ti sanno dare un parere più informato. Loro di computer ne costruiscono un po' di più di quelli che faccio io, ma sono abbastanza convinto che... Il processore sia più importante della scheda video. Loro di computer... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Devo raggiungere la macchina per il motor controller. Granata a segheria per controllare se ci stanno i boss. Buonasera. Buonasera. Motor controller shoreline ancora no. Cacchio, ero nel posto giusto, non ho fatto la missione di steady signal. E' molto importante. Buonasera. Grazie, Gabbo. Buonasera. 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 a emercom se ho culo forse riesco a passare inosservato lungo spiaggia ma non garantisco eh potrebbe esserci così sì senza potrebbero G28 peraltro ma io ho fiducia corri senza guardare indietro guarda al lago così si schiatti è un'ultima visione molto piacevole grazie a tutti minchia ragazzi niente evitiamolo troppo chad si fosse fermato un secondo in più si fosse fermato un secondo in più potevamo pure provarci ci avrei provato stavo già tarando si fosse fermato un secondo ma così no andiamo via guarda va che ho sofferto troppo per queste quest ragazzi il counter dei falò crescerà magicamente proprio mentre loro hanno deciso di far finire l'evento così ho questo sentore per niente basato sulle esperienze passate e il wipe prima e il wipe prima ancora come hanno fatto ormai da quattro wipe e il luogo E voilà Finalmente Due tre sessioni di inox Che facciamo fatica con queste Ma finalmente fatte In teoria si zionisi Bitcoin farm livello 2 Sull'account principale Allora Skier E ci cacciamo Kind of sabotage Land lease Ci cacciamo sti due Uno e due Prapor Ci abbiamo roba No therapist però questa E siamo arrivati a dover andare a factory di notte In cambio ci danno a medicine case Molto bene Perché mi sto interessando Ho senso giocato da solo Guarda Alex Se è capitato la sera Che io faccio proprio quello Io gioco In gruppo Ho un account principale Con tutto sbloccato Tutto avanzatissimo Il lunedì Gioco con un account standard Quindi il più economico che c'è Esclusivamente da solo E quindi se è capitato nella sera più giusta Ha senso? Sì Basta giocarlo con un altro approccio Con un'altra ottica E si può tranquillamente fare Non mi ricordo cos'altro ho fatto I marker non li ho messi Ho fatto tutto quello che potevo Consegnato tutto Allora Orientarsi Si impara Molto bene Che sta spopolando il rattare Ma non è che sta spopolando il rattare No non sono d'accordo È sicuramente una meccanica vincente Ma nulla vieta che non lo facciate anche voi C'è differenza tra rattare Aspettando fermo in un posto E giocare con cautela Io con Inox Gioco con cautela Se quello vuol dire rattare Allora ratto con Inox Però non c'è nulla di male Allora Stavamo dicendo Quindi Prapor Fatto Tirato su Therapist Abbiamo roba facile Abbiamo un po' di roba su Streets Setup Chi c'ha voglia È questa qua Dove portare avanti Di nuovo Streets Tutto Streets ragazzi Sta roba Streets 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 Tarcov Arena È un gioco A parte Dove Non mi No per niente Anzi mi diverte molto Arena è un gioco A parte Tipo Counter Strike Tipo Rainbow Six Quindi Due team Da cinque Contro Tra di loro Ambientato nel mondo Di Tarkov Quindi con Il combattimento In stile Tarkov Ragazzi Qua Mi sa che conviene Andare a strade Di Tarkov Strade di Tarkov Si va qua Si acchiappa Pure uno zaino Perché abbiamo Broadcast 2 Revision Quindi mi servono tre Ma ho portato fuori Anche questa Quanto la vendo La telecamera 100k Devo anche andare Interchange Ma se non ve ne siete accorti Sto rimandando Non ho voglia Broadcast 2 Revision Quindi mi servono Tre marker Tre marker The door Population Chensus Ballet Lover Abbiamo la key Perché l'abbiamo presa prima Glory to CPSU Ok Ecco qua la chiave Venduta No 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 Non posso permetterlo Quest'anno Checo Falbo Grazie dei 26 No Non lo gioca nessuno Perché È un gioco al momento Questa è una recensione mia È un punto di vista mio Alex Un po' più Povera C'è C'è poco da fare Al momento Dopo che l'hai giocato Un po' di volte Ti rompi La progressione è molto lenta Molto tediosa Obiettivi non ce ne sono E secondo me Tra l'altro Manca il brivido vero Di Tarkov Ovvero il motivo per cui La gente apprezza tanto Questo gioco Il motivo per cui Va anche forte su Twitch YouTube eccetera È che è un gioco Dove hai un sacco da perdere Cioè la gente lo guarda Perché quando muori su Tarkov Conta Quando vinci su Tarkov Conta In un gioco invece Come Counter Strike Valorant Rainbow Six La morte non conta nulla Due secondi dopo Sei di nuovo dentro E quindi vai a perdere Una delle caratteristiche fondamentali Che rendono Tarkov Incredibilmente Interessante Questo è il mio punto di vista Soro grazie del Prime Col tempo non diventa più frustrante Alex Ti abitui Perché è frustrante Quando quello che hai addosso È prezioso Prezioso vuol dire Che per te è difficile Ottenerlo Allora Perderlo Ti causa stress Che allo stesso tempo È una delle cose migliori Del gioco Perché quello stress È proprio Quello che ti fa godere Infinitamente Se vinci Perché non l'hai perso Perché hai vinto La roba dell'altro Eccetera eccetera Però col tempo passa Una volta che inizia a capire Come fare i soldini Come recuperare la roba È più la scocciatura Di rivestirsi Che altro Però Sì Il discorso è che Il fatto di non poter rientrare Di non poter Avere una rivincita È la cosa che Ti manda più in bestia In assoluto Sicuro Dobbiamo subito Passare la strada Marchiamo subito Il primo C'era lo sniper sul tetto L'obiettivo è sempre Prendere un oggetto E estrarre No 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 Le missioni cambiano L'obiettivo è Sopravvivere Punto Sì Comunque c'è entrato Il punto La cosa più frustrante Di Tarkov È morire In una maniera Che ritieni stupida E che ti fa sentire Una nullità Rispetto a chi ti ha ucciso E il fatto di essere Surclassato Che secondo me Fa innervosire Di più di Tarkov È un po' di Tarkov Per i nuovissimi ve lo ripeto Tutto quello che è all'interno di questo container Non lo perdo se muoio Il resto Vola Fratta l'esterno Scab Quindi esempio Questo oggetto Costa meno della somma di questi due Quindi io siccome li ho trovati Me li sono messi nel pouch Se dovessi morire Quel costo almeno l'ho recuperato Quasi impossibile che tu perda tutto ciò che hai Proprio perché Non può piovere sempre Ma non è un problema Perché comunque tu hai anche lo scav Come possibilità Lo scav è Entri nei panni di un bot Con un loadout casuale Non puoi andare avanti nelle quest Ma fondamentalmente è una partita gratis Un po' con quello che capita Quindi diciamo che la possibilità di andare Veramente a zero Non c'è mai Anche perché appunto Da scav Entri in una partita già avviata Magari la possibilità di Di trovare I resti di una battaglia Olè Più che per imparare a giocare Devi considerarlo una partita gratis Io consiglio di usare il proprio PMC Per imparare a giocare Perché se te ne viene una buona Vai avanti Essendo lo scavo una partita gratis Se tu porti a termine qualcosa di importante Non conta per il tuo PMC È sempre meglio giocare col PMC Non c'è il BTR Non sbagli Diego Come mai Secondo me Perché rischiavano di Fare un patatrack Con Con i boss nuovi Quello è un SVD Però ho sentito adesso Dei passi qua sotto Non sbagliato Non sbagliato Dice di essere Ster Scusami Grazie Per il rinnovo Potrebbe essere Che non ti ho rinnovato Cioè Che non ti ho ringraziato Che hai rinnovato Tu hai rinnovato Ragazzi Io quello Non lo accoppo Non voglio Fare casino E perché È un gioco completo Alex Il fatto che sia ancora in sviluppo Non vuol dire che di fatto È un gioco completo Anzi È un gioco Che ha da offrire Molto di più Di tante altre cose Sul mercato Personalmente Nella mia vita È diventato anche il mio lavoro Ma io nella mia vita 500 ore Sull'account secondario 10.000 sul principale Non l'avevo mai dedicato a nulla Ballet lover L'ho appena finita 10.000 ore 10.000 ore Sì sì Account principale 8.000 erotte Più i tornei Più gli inox Sono 10.000 ore In totale Considerato che i primi 5 wipe Non contavano le ore Vuol dire che io ho 10.000 ore Esclusi i primi 5 wipe Non è che piaciucchia È proprio un gioco Che Che porta a giocare tanto È un gioco che Si fa giocare Io penso che chiunque In chat in questo momento Abbi almeno 1.000 ore O comunque Tutti quelli che giocano da tanto Abbiano almeno 1.000 ore È uno di quei giochi Per cui Costa caro Yes Ma secondo me vale Fino all'ultimo centesimo Potrebbe costare molto di più Per quello che ha da offrire Secondi che la maggior parte Degli altri giochi Dopo 16 ore Li hai finiti Non Per me non c'è paragone Ma non Non perché io sia ossessionato Col gioco Ripeto È diventato il mio lavoro Per cui l'ho giocato tanto Anche per quello Però comunque Io prima che diventasse Il mio lavoro 2.000-3.000 ore Gli avevo date Eh Grazie ragazzi Della conferma Vedi che i numeri Sono quelli Grazie Shelby Non c'è giocato Ma chi ce l'ha Ci gioca tante ore Il succo era quello Non è un gioco Che fai 30 ore Lo molli Eh lo so Tremor Beh Beh in 15 minuti Sicuro non le impari Albus Eccolo qua Eccolo qua Oh Mi sono bloccato male Eccolo qua Ok Ma dove dobbiamo andare Glory to CPSU Ok Andiamo a check Nail Ok Grazie a tutti 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 Siamo plus Siamo plus Fino al primo aprile 2025 Pensa che bello scherzo Ok Ok la mia uscita è qua di fianco Ma dovremmo combattere Grazie a tutti E' un'altra E' un'altra E' un'altra no mamma mia quante queste abbiamo fatto in una mossa tutto è shot di pistola allora proper glory to cpsu fatta population census fatta dangerous road dobbiamo farla streets of hardcore urban medicine manca pets won't need it manca questa manca dov'è survive woods peacekeeper trovato il vd 40 piccolino quindi con il bleach effettivamente abbiamo finito vedete che ho fatto bene a craftare prima il bleach perché era quello che ci metteva di meno così non tenevo impegnato lo stash per tanto tempo e se trovavo l'altro nel frattempo potevo fare questa mossa quindi peacekeeper spatour finita e così siamo su spatour parte 4 possiamo farla meccanico abbiamo fatto broadcast 2 sbloccando di conseguenza surveillance e watching you ragman bullet lover finita jäger abbiamo sbloccato nostalgia e broadcast parte 3 mossa intelligente quella di broadcast parte 3 perché mi permette di andare avanti con jäger nonostante tutto il resto sia praticamente bloccato quindi con broadcast 3 broadcast 4 e nostalgia tutte facili da realizzare dovrei riuscire a raggiungere il livello 3 fare le quest non è stupido Alex serve a salire di livello perché guadagna esperienza sbloccare la possibilità di acquistare oggetti che a volte sono proprio bloccati dalle quest in più ti permette di salire di reputazione con i vari trader che ti permettono di acquistare oggetti sempre migliori per esempio prendiamone uno a caso peacekeeper livello 1 ti permette di acquistare 4 tipi di proiettili e questo tipo di armi livello 2 inizia ad avere una selezione di proiettili più performanti inizia ad avere qualche silenziatore qualche mirino lungo armi un pochino più succose zaini armature eccetera livello 3 proiettili molto più interessanti granate caricatori ad alta capacità più mirini visori notturni più modifiche per le armi armi più prestanti piastre balistiche eccetera eccetera quindi più vai su con i trader più hai a disposizione equipaggiamento che ti aiuta a sopravvivere sottolineo ti aiuta non è che è garantito grenadier credo di averla già fatta cioè no grenadier ma la missione per recuperare sì esatto la missione per recuperare fiducia con lui quindi queste si vendono tutte che le vendi bene infatti 26.000 voilà Sto mettendo un po' a posto la stash usando i filtri Così prendo tutto il cibo che abbiamo Lo mettiamo via Zucchero quanto ne abbiamo? Sempre quei due Allora questi due intanto li vendiamo che sono 200.000 rubli E' normale Quando cerchi gli usec sono tutti bear Quando cerchi bear sono tutti usec E' la prima legge di Tarkov Ok quindi Broadcast parte 3 Watching you Mi serve la surveillance Quindi conviene prendere Dov'è che ce l'abbiamo? Avevamo il portachiavi a fiorellino Eccolo qua Concordia Security E poi c'era anche la Pinewood Forse era 206 che mi serve Tocca vero Tito? Se lo sapevo però sono problemi tuoi Ok Pinewood forse 206 Mi serve anche L'X-Ray l'abbiamo portata fuori prima E poi mi serve la 206 Pinewood Le ho tutte e due Non mi ricordo Nel dubbio Non vado neanche a guardare Me le porto e via Quindi riandiamo su Streets Stavolta ci portiamo Queste 4 chiavi Dovrei avere tutto quello che mi serve E andiamo Mi serve il nostro Dottor Hamster o Drumster grazie mille dei 13 mesi di Prime e Gunpla grazie anche a te dei 26 poi vado a fare quelle di interchange non ho voglia ragazzi non ho voglia poi sottovento quanta meno voglia ho anche se forse se mi metto a farmarli ma che è il cargo devo ancora fare i negozi che ecco ah trovi killa i guns Gesù risorto proprio ieri tutti grazie non ho tirato fuori un cargo muoio pure ah ma i manifesti dici che ecco titos spoiler sono stato bravo una delle poche soddisfazioni che ansia che è stato quell'evento lì però è stato molto molto bello Mickey grazie dei 26 e dai a a a a a E dai Anch'io attendo i player ma tanto non li devo vedere Forse devo andare comunque poi su reserve a fare qualche cecchinata per cercare di mandare avanti le quest Di Jäger intendo, le Tarkov Shooter Oiii Dai che inox ha tempo da perdere Buonasera Frankie E dai 5 minuti Ah vedo il ping che esplode Ok stiamo entrando Mazza che lag incredibile Io devo fare mille queste Ah no devo andare al Pinewood a posto Iniziamo con quello Ok stiamo Ok stiamo Ok stiamo Di che zona sei Titos? Non dirmi che sei di Torino ti prego Mi corro verso l'incrocio centrale Mi butto in metropolitana E vado a destra Comunque per tutti gli interessati al porto d'armi Per averlo bisogna andare al TSN più vicino a casa propria Al tiro a segno nazionale più vicino a casa propria Dopodiché si prenota l'esame e il corso di maneggio Una volta che si ha il foglio del maneggio Certificato medico e la visita del medico legale Che si può fare tramite l'ASL Un paio di marche da bollo Si va dai carabinieri o dal commissariato di polizia Si fa domande e si aspetta Ed eccoci al legno di pino Yale Grazie dei nove In questura Se dito passi Scav In questura si va anche per il porto d'armi Però non è necessario andare per forza in questura Si può andare anche nel commissariato di polizia più vicino Oppure dai carabinieri della propria città Che si occupano di fare da tramite Tanto passa sempre dalla questura Però Che si può fare da tramite Poi se sono scansafatiche come a Torino La domanda te la rifiutano Ok watching you USB presa Pronti per muoversi Domani dal martedì Yes In che senso? Perdonami Avete sentito il colpo che è rimbalzato sull'elmetto? Ha fatto tipo nei film western Non ne so ancora Matteo non sappiamo ancora cosa fare Sergentone Cresi Porta chiusa Vuol dire che nessuno ci è passato Porta chiusa Ottimo segno Ci andiamo a dare un occhio Chiusa anche la seconda Bene Dimmi che è chiusa anche quella Perfetto Chiusa anche quella sopra Tutto buono Oh oh Sono vicino ai simpaticoni Quelli dell'evento Che ha subbato Moxi Grazie mille Sono molto forti di scade l'evento Il main con inox 30 quasi 40 Col main oltre le 60 Ok Ok C'è l'effetto Ma questi dove cacchio sono Oh oh Ignora ignora Porca miseria Pure Oh no Grazie mille ok la x-ray l'abbiamo fatta adesso andiamo a fare veterinario passi ok la x-ray già qui ci siamo anche glory parte 2 tra l'altro fra le mani ho forse la migliore arma del wipe perché un'arma del genere a 550.000 rubli già silenziata performante com'è forse la migliore del wipe ti permette di muoverti con estrema rapidità pesa niente altissima ergonomia non la sentono quando spari glory to cpsu parte 2 dovrebbe essere qua in questo labirinto dell'orrore ho sbaglio ragazzi non era qua? non era qua? dov'è glory to cpsu parte 2 dipende quant'è la tua sensibilità gaz ah il museo è vero dipende come la tua sensibilità se l'hai disinstallato perché c'erano troppi che ce ne sono ancora e allora mi conviene evitare ormai e fare crash site situazione che una volta ti avrei detto uno ogni 100 ride forse adesso è un pochino più frequente perché si è abbassato il numero di giocatori che gioca ma comunque è un evento raro cioè la maggior parte delle volte muori per inadeguatezza o per cagate morire sempre da cheater o per cagatezza o per cagatezza mi serviva la kill e adesso quelli cercheranno il killer per 40 minuti splinter sale ragazzi che è stato eh colpo secco cadavere a terra svanito silenziato gli scav non hanno sparato un colpo che fosse uno scomparso scomparso questi non erano loro perché i due rimasti sono silenziati tutti e due quella che ha sparato adesso era un rpd quindi probabile scav player o boss kitos grazie agli otto mesi mi sono accorto solo ora che era scaduto a devo avanzare a marcare solo questo mezzo e possiamo volare via e a me ragazzi le giocate come quella che sono riuscito appena a fare mi gasano ma non tanto di più ma che figata è dai le abbiamo visti le abbiamo lasciati passare le abbiamo studiati le abbiamo abbiamo scelto quale ammazzare un colpo un morto scomparsi minchia io godo come un riccio sevest grazie dei sette mesi il mio modo preferito di giocare Tarkov è stealth senza dubbio Mizzica mi hai fatto una domanda impossibile da rispondere sevest sono tantissime sono tantissime le chiavi chiedimi una mappa specifica poi rapporto qualità prezzo dipende posso dirti in generale quali sono le chiavi secondo me valgono di più la black di lab secondo me te la ripaghi facile in questo momento c'è tanto loot fuori per cui proprio una chiave specifica no per streets security quella che ho appena aperto e c'è c'è sì quelle lì streets è forse la mappa con le chiavi più importanti eh più o meno Luca però questo tipo di gameplay Luca lo puoi fare solo da solo perché in tanti si fa un casino incredibile allora pezzo on need it fatto parte 2 cos'altro ho fatto adesso solo questa no ho fatto anche no ho fatto anche surveillance e watching you a posto ok vediamo se contava la kill no cavolo non erano 80 metri non contava cavolo shooter born sì però shooter born sì vabbè dai meglio che niente no 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 non erano 100 però pensavo fossero più di 80 ma veramente aveva questi colpi ecco perché mi ha fatto un male della madonna quello scavli che pirla che sono stato a non raccogliere tutti gli altri ok è stato mandato un messaggio fortissimo i player sicuramente l'hanno ricevuto allora cosa possiamo fare? e dobbiamo tornare a striz perché mi porta avanti Jaeger che è il più vicino a salire di livello old house ah ok 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 allora chiavi che non ci servono più sono x-ray e pinewood non servono più in compenso mi serve negotiation che pensavo di avere eccola qua vedi che ce l'avevo perfetto andiamo da quanto non giochi offensive che brutto comunque morire mi è successo l'altro giorno ma che brutto morire come quel tizio porca miseria un colpo dal nulla secco mamma mia dopo tra l'altro aver clearato tutto cioè neanche dici sai era una zona pericolosa no no sei passato tutto sembrava sicuro è la legge della giunga sì sì ma merda in quel caso l'ordine di ingaggio sempre l'ultimo ragazzi deve morire sempre l'ultimo non il primo perché il primo poi vabbè dipende come erano disposti ma in questo caso loro stavano andando via no io ho sparato all'ultimo quando i suoi due compagni erano già andati se avessi mancato lo shot comunque l'ultimo sarebbe andato in copertura io avevo tempo di andarmene via se sparavo al primo gli altri lo vedevano morire non avevano neanche bisogno di sentirlo chiamare perché cosa succede tu spari e in discord quello avrei detto mi hanno fatto però se è il primo prima ancora che gli arriva il comando agli altri l'hanno visto morire quindi sono subito in allerta se invece tu senti uno sparo l'ultimo della fila muore e dice sono morto prima che gli altri hanno capito da dove come cosa è già sufficiente non so se mi spiego no guarda io uso solo le M67 che volano drittissime sentono puttame no vabbè ragazzi pensateci se sono sgamati il primo muore anche dalla direzione in cui cade capisci da dove gli hanno sparato certo io avevo fucile che faceva rumore e tutto quello che vuoi però sono tutti dettagli in più io visivamente se vedo quello davanti a me che si accascia subito anche senza suono so da dove gli hanno sparato più o meno mi sono reso conto di tutto se invece è l'ultimo della fila sei fottuto ora che ti giri e cerchi magari è già un altro che è andato giù quanto non è tattico su streets non cambia assolutamente niente sicuro Sergio 100% però cioè quindi se vi colgono di sorpresa si spara a chi si può se invece come in questo caso avete la possibilità di seguirli si spara sempre all'ultimo poi se vogliamo fare gli approfonditi c'è anche il discorso trapper e tracker che sono due tecniche diverse per sparare con i bolt action da cecchino se voi fate caso io sono trapper la differenza qual è il tracker quando c'è un bersaglio in movimento lo segue e spara seguendolo cioè ovviamente devi sparare più avanti però per trovare il punto di mira lo tracca e spara traccando io intrappolo quindi porto il fucile già in posizione e aspetto che il nemico vada dove deve andare non ci sono né vantaggi né svantaggi è solo una questione di come ci si trova meglio se ci fate caso io intrappolo sempre seguo la traiettoria per un po' quando decido di sparare mi porto un po' più avanti col fucile e aspetto che il bersaglio vada lì eh ma se la cava questa pistola Invicti reppe se ti si avvicinano frontalmente come stava succedendo io consiglio di fare come ho fatto io non ho sparato ce li avevo davanti ma non ho sparato perché si muovevano in maniera troppo erratica l'avrei mancato quasi di sicuro quindi ho aspettato che corressero in linea via da me ho cercato il tiro ma non ero sicuro di prenderlo e quindi ho provato a buttarlo sull'ultimo anche se correva orizzontale che non era ideale però l'ho fatto mentre il tizio stava scomparendo quindi se lo mancavo potevo levarmi io Lele grazie ai 12 mesi difficile che quello si fosse si sarebbe fermato per girarsi a guardare molto difficile quindi quel colpo lì ci ho provato alla peggio lo manchi quando invece mi correvano incontro sparare sarebbe stata la mia sentenza di morte loro erano in tre facevano casino e non sentivano me se avessi sparato e mancavo il bersaglio gli altri mi distruggevano è vero offensive sì però se lo avessi mancato a quel punto non era più grave come all'inizio perché all'inizio loro erano in tanti vicini e tutti in vista lì al fondo era l'ultimo a 60 metri quelli che erano è stato perfetto e allora grazie dei 21 mesi lunghi tutti i matching stasera in VT allora mi manca da marcare un carro che sta al cinema e io continuo a spawnare qua giù molto male ah no cinema cacchio mi son disorientato a palla posso anche uscire da taxi cavolo soldi li ho? no ovviamente ho sparacolpi più piccoli in realtà comunque la 5-7 è la migliore di tutte le pistole perché ha il caricatore da 20 colpi i proiettili che spara sono minuscoli viaggiano fortissimo e bucano a differenza degli altri adesso ti faccio vedere la differenza che è combinazione grazie al buon oddio non mi ricordo il nickname ah Stefano CS o Stefano CS2 o un 5-7 vero da farvi vedere esiste il collaterale certo i colpi hanno una balistica fino alla fine del loro tragitto quindi si già è passato qualcuno qua no forse no ho due ore a trovare il pezzo guardalo qua passi zero perché no mai farsi sentire se si è in posti così brutti i pez non riesco a farla questa però però developer secrets e broadcast 3 e cpsu forse si stai stai lo bet come uscita quindi si tene che tu guardare la di che che dovuta in v Quello è un scav morto. Oh oh. Male male. Anche io ho sentito passi lato incrocio. Su un metallo. Qualcuno è passato di qua. Passi. Una porta ho sentito chiudere. Passi. 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 Pensavo di aver preso anche il secondo Occasione persa Che è successo? Ci siete? Non me lo aspettavo Non me lo aspettavo per niente Caspita non mi ci volevo Vabbè Non me lo aspettavo Peccato avevo anche Il pezzo E il tizio che Non è neanche lui E' un altro ancora Si si mi ha sentito arrivare ma Ho dovuto anche sparare per sbaglio Per Per riavviare la stream Purtroppo Questo era un altro ancora Non era quello di incrocio Era un altro esatto Si quello di incrocio Si 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 ok Peccato Peccato Ho fatto un altro headshot Però Ovviamente devo estrarre Figurati No non andava troppo bene Ci sta E ragazzi Cioè Il loadout che ho usato E' stato sfruttato a pieno Ora Con poca spesa Possiamo riprendere di nuovo I colpi Voila La pistolina Un caricatore extra Voila E poi usiamo questo Come cecchino Per fare la quest No no E' stata colpa della stream Che è saltata E mi ha proprio glitchato il computer Per un attimo E quindi Ci ho messo un po' Peccato Fai vedere la 5-7 Si non ho una 5-7 Però vi faccio vedere Allora fatemi solo Un attimo gestire il tutto Ok Mi serve ancora Lo faccio vedere in matching Questo ce l'abbiamo Armatura Elmetto Cuffie Pronti Ho il porto d'armi Yes Vuoi dirlo fortissimo Anzi Guarda meglio Si Si la vende già così Grazie ok vi ho portato un po' di roba vaffanculo Serge allora questo è un 45 ACP bello ciacciotto questo è un 5-7 una minchietta in confronto va molto molto più forte e nei proiettili è la velocità che vince sulla massa questo è come prendere un cazzotto certo che puoi real mamma e questo invece è un missiletto un rasoio che passa noterete che è molto simile al 223 solo più piccolo anzi il diametro della pallottola è quasi identico quindi è quasi identico al colpo di un M4 però c'è ovviamente molta meno polvere però non è roba da poco ci vola comunque veramente veramente forte quindi pistola questi fanno male sono fatti per passare per dare un impatto forte la 5-7 è la pistola migliore perché rincula di meno e spara dei missili passano proprio neanche il possesso del porto il comodino peso delle palle questo non lo so devo controllare ma penso un po' più penso 40 grani adesso te lo dico arresta di più una pistola a 9 millimetri eh no dipende eh no dipende perché cioè su un bersaglio non protetto sì però capisci che 40 grani ok quindi come il colpo di una 22 ok stiamo parlando di 40 grani 62 grani 210 grani quindi un colpo di questi sono 5 di questi a livello di forza cinetica ma in realtà no perché bisogna fare il rapporto con la velocità il colpo del 45 è una pala da bowling proprio quindi non lo so bisognerebbe fare un controllo no che il porto d'armi di fatto serve solo per portarle in giro però se tu hai il porto te le porti a casa il porto scade le puoi tenere in casa non puoi più uscirci non è proprio così Javelin non è proprio così il potere d'arresto ha ancora motivo di esistere prenditi un colpo di 223 addosso e prenditi una slug e poi parliamo di potere d'arresto il discorso è diverso non è che il potere d'arresto non esiste è che il 22 ci deve senza problemi sì ok ma tu preferiresti sparare uno con la 22 o con 308 potere d'arresto esiste come? che il piazzamento del colpo sia importante certo però la fisica non è un'opinione ed è uguale in direzione opposta no non è quello il discorso non è quello il discorso Javelin esattamente potere d'arresto è la definizione potere stare una persona però un proiettivo non può esercitare una forza per stendere più la forza della spara viene esercitata in una direzione la sebra no, allora è una questione di di joule, cioè di energia potere d'arresto diciamo che si lo può intendere in quel modo come il potere di arrestare una persona sul colpo o comunque un ber... facciamo così parliamo di bersagli, così almeno è più contento Twitch io lo vedo più che altro come la quantità di energia che sca... dobbiamo aspettare un attimo ragazzi io la vedo più che altro come la quantità di energia che riesce a scaricare sul bersaglio all'impatto che ovviamente è una funzione del peso che ha la pallottola e della velocità con cui colpisce e anche della sua forma sì ma non è quello il potere d'arresto, Reppe e soprattutto non è solo quello perché la forma del proiettile cambia ci sono proiettili studiati per penetrare e ci sono proiettili progettati per scaricare tutta l'energia nella minor distanza possibile il potere d'arresto è influenzato anche dalla forma del proiettile per farla breve il potere d'arresto è l'energia che si porta dietro un proiettile e l'energia che riesce a scaricare un proiettile all'impatto ovviamente un proiettile come questo ha un potere d'arresto inferiore a questo perché l'energia che si porta con sé non sarà mai l'energia a parità di velocità ovviamente non sarà mai l'energia di questo che ha una forma poco aerodinamica poco fluidodinamica non passa attraverso il materiale ma scarica tutto lì è un po' come dire ragazzi ok facciamo questo rapporto fa più male una biro infilata così una biro infilata o un pugno di pari potenza ovvio che la biro può arrecare un danno che nel lungo termine è più letale ma sul momento il pugno te lo scarichi tutto la biro non te ne accorgi neanche cazzo c'è uno qua fuori se la forza è uguale sì ma cambia la quantità di energia che viene scaricata quindi il potere d'arresto esiste ragazzi se è una superficie minore ma non è solo quello vabbè ne parliamo dopo esatto che è direttamente proporzionale al danno arrecato noise quindi all'energia scaricata perché un 338 ha più potere d'arresto di un 308 quando si parla di un impatto l'energia che viene scaricata è un 308 il danno che viene recato è dovuto all'energia che viene scaricata più energia viene scaricata più casino si fa scub lo conosco il video di Vlad per quanto io rispetti Vlad in tutto quello che fa in questo particolare discorso non sono d'accordo poi primo l'opinione che possiamo avere io e Vlad a riguardo è solo l'opinione di due nerd che non hanno alcun tipo di esperienza diretta e possono solo dedurre da quello che leggono sui libri o ascoltano su internet io nel mio piccolo ti posso dire che conosco gente che di lavoro utilizza queste cose e se è passata al 300 blackout rispetto al 223 un motivo c'è non è da braconiere no no conosco gente che non parlavo di caccia Zurigo parlavo di forze speciali conosco un gruppo di persone che lavorano in una squadra estremamente d'elite a livello italiano e so per certo perché ho avuto modo di vederlo con i miei occhi che per la loro arma secondaria sono passati da un normale m4 a un 300 blackout proprio per il potere d'arresto siamo vicini a broadcast proprio perché in determinate situazioni non è qua ok in determinate situazioni il 223 non aveva l'effetto desiderato mettiamola così per esempio col materiale morez ah quello non te lo dico real mamba posso solo dirti che più in alto è un più in alto di quello non c'è 300 blackout te lo faccio vedere subito scu domanda stupida non è stupida non ve lo dico tanto ragazzi non posso dirvelo allora 300 blackout nella vita reale e come Tarkov in tutto tutti i colpi tutti i colpi che hanno il punto prima del nome quindi punto 308 punto 300 blackout punto 338 eccetera sono in pollici tutti i numeri che hanno invece millimetri dopo no invece c'è mamba c'è non è che esiste un solo massimo è parte di un'elite che nemmeno sapevo esistesse ma che fa cose molto particolari per lavoro comunque 9 millimetri è molto usato per la maggior no il 9 millimetri viene usato perché proprio proprio perché l'energia che porta con sé un colpo è dovuta sia alla velocità che al peso la differenza che c'è tra il 45 e il 9 millimetri non è così poca anzi il 9 millimetri ha tanto da dire anche rispetto a un 45 è più piccolo se ne portano di più è efficace lo stesso per cui è il colpo che ha vinto come popolarità parità di cali per esempio con il materiale Moretz con la durezza del materiale con per esempio l'856A1 ha lo stesso identico peso di questo 62 grani se non sbaglio la differenza è che questo è piombo camiciato di rame questo ha un puntale in tungsteno quando picchia buca e sapresti spiegarmi perché del nuovo calibro della US Army certo il nuovo calibro della US Army ovvero il 277 Fury che è simile a questo questo è un 6 e mezzo per 47 il 277 Fury è un 6.8 quindi è quasi come questo perché l'hanno scelto come nuovo calibro? guarda un po' perché il potere d'arresto esiste il 300 come concetto sì è un proiettile strozzato aspettate che vado a prendere pure il 300 a sto punto è una vecchia stampante una Monoprice Maker Select 2 questo è un 300 blackout questo è un 223 vedete che il il bossolo è lo stesso cambia chiaramente la pallottola che nel caso del 5.56 è un 5.56 circa 50-60 grani nel caso del 300 blackout è una palla da calibro 30 quindi 300 7.62 con un peso di 200 erotti grani quindi 4 volte questo va molto più lento ma si porta dietro tanta energia in più prendi anche il 338 eh questo è il 338 questo è 300 grani e viaggia a 900 metri al secondo non la rispettano Zirco fanno quello che vogliono il 300 ha la punta espansione si metti a fianco il 5.7 l'OAL è lo stesso si può si assolutamente si i caricatori sono gli stessi poi fanno anche dei caricatori con il follower ottimizzato però di fatto si usi lo stesso allora Jäger fatto quindi broadcast 4 mi serve la chiave adesso però se porto termine la missione è sufficiente no si invece si devo farla devo farla a tutti i costi e 277 c'è già ah Mello non lo so quello no c'hai ragione Albus però 2 milioni di rubli fa male hai il porto d'armi ne hai trovato uno raccontami qualcosina in più per quanto tu puoi Real Mamba sono tanti 2 milioni di rubli da buttare lì la trovo aperta eh cacchio se non la trovo aperta spreco una run per niente ah cacchio non stavo consegnando questa oh se la apri almeno 5 volte si è un competitor che è fallito quindi non penso lo vedremo per diversi anni proprio nella vita reale anche allora eh però pochi cacchi ragazzi dobbiamo farla si compra e via ah solo tipo questa tipo questa qua questo però un 375 chai l'unico modo che hai ma c'è carico è carico Mamba ok senza rovinarlo è quello il discorso ti serve un martello cinetico il modo migliore te ne linko uno che puoi comprare su amazon è un martello all'interno del quale tu metti il colpo tiri una botta sul tavolo e per inerzia lo scapocchia 4 volte 5 volte Filippo ecco te il link costa 27 euro su amazon che forse è un pochino tanto però è comodo su amazon se no in qualsiasi armeria lo trovi ci sono proiettili considerati legali questi se fossero pieni questo è il 50 e in italia non si può avere immaginatevelo finito questi noi li abbiamo sparati in america però dove era legale le aste hai ragione chi ha scritto delle aste hai ragione confermato partner plus yes mi ero pure dimenticato figurati bacca cartucce militare infatti 50 militare hai fatto qualche video in america ho fatto il video lo shot show e c'è un video che uscirà quando finisco uscirà c'è un video sì un 50 bmg in usa abbiamo speso mi sembra 40 euro a colpo una roba del genere fra quanto l'xmc abbiamo sparato col sacco è la stessa cosa cioè è lo stesso calibro devo piazzare una telecamera dentro la market no vero costa tanto in questo momento non ho tanti soldini Filippo non c'è più quella legge adesso puoi avere anche il 919 cagate della legge italiana proprio veramente cagate italiane e repe bravo e infatti il fucile che abbiamo è un ex fucile del GIS Zirco no ma infatti altro bacca montana grazie dei 9 mesi allora abbiamo sparato sono identici però il 556 ancora non è legale che cacchio ti devo dire comunque Anto in America abbiamo speso in un poligono dove ti affittavano la roba 400 dollari in due quindi smonta la parola ah si infili tiri una martellata contro il tavolo e per inerzia la palla si sbuota e ti rimane il bossolo la polvere da sparo e la pallottola comunque Anto abbiamo speso 400 dollari in due quindi 200 dollari a testa abbiamo sparato in full auto con un HK416 con uno SCAR in full auto e un paio di colpi con 50 BMG secondo me ne è valsa la pena perché più o meno 200 euro è quello che avremmo speso per andare al poligono in Italia per cui l'esperienza secondo me è valsa specialmente il fatto che la parte più costosa del viaggio era arrivare fino lì e abbiamo sparato 25 colpi con l'HK 25 colpi con lo SCAR e 5 colpi con 2 in realtà 2 io e 3 Dalma colpi con il 50 tutto registrato uscirà yes esatto come sono da controllare ah col Barrett col M82 Zirco non l'ho registrato sopra no quello è buono rinculo l'ho trovato molto controllabile molto fattibile per l'HK lo SCAR era totalmente incontrollabile proprio se ne andava dove cazzo voleva lui l'HK lo tenei fermo secco come in tarco identico SCAR no SCAR proprio era lui che sparava con te HH oh ma 5 minuti ho finito ho finito le parole basta quello maschio Moretz no Andre andava veramente dove voleva lui non mi interessa assolutamente la mia passione per le armi è tutta un'altra cosa rispetto alla passione per il mondo militare sono contro ogni tipo di violenza ogni tipo di guerra non sono un appassionato del mondo militare mi piace l'ingegneria che c'è dietro le armi e militare è tutta un'altra storia e niente questa sera solo grandi emozioni crashato per la serie quando il ride non parte e tu pensi che gli altri siano il problema in realtà il problema sei tu bentornati e quindi per questa settimana inox sarà un bellissimo tagli ai cuci sono felicissimo chi è quel malato il bici di regno ah io reconnect fammi vedere cronologia affidabilità qual è il problema c'è ancora c'è c'è ragazzi ma sapete cos'è è l'RGB ma mi credete che è l'RGB è l'RGB che salta che cacca mi frega me delle lucine spegnero no ma disinstallo proprio quel maledetto Asus armory crate contro la violenza dicevo Puvrum sono contro la violenza contro ogni sua forma e non mi interessa la carriera militare ecco da militare devi andare a combattere anche guerre di cui non necessariamente appoggi le motivazioni e rischi la pelle tu per qualcuno che spesso sta dietro una scrivania a muovere delle pedine lo tengo il rinculo Sergio eccoci qua spawnati in un raid già vecchio pronti a morire fantastico ora è posto in merda mannaggia l'rgb può incasinare il pc eh sì spesso sono programmacci oh 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 no minchia è proprio quello il discorso è proprio quello il discorso Filippo Russia e America sì sì loro se la cercano la guerra loro la guerra se la cercano ma i militari che la combattono non sono sicuro capisci cosa voglio dire no non credo penso proprio di no Filippo è molto stupido pensare che i soldati in questo momento in guerra siano contenti di esserlo no infatti non sparerai qualcos'altro dei bersagli devi condividere quello che fa il tuo paese sì ma le idee cambiano trovano giusto essere lì io non credo allora tantissima gente sceglie la carriera militare perché è una carriera e le alternative sono poche tantissimi lo scelgono appunto per la parte economica più che altro e ti posso garantire che è pieno il mondo di video pieno internet di video di gente che era 1500 euro al mese parlo anche dell'america ci sono posti in cui non hai molte altre scelte ci sono posti anche in Italia dove l'alternativa è 800 euro in nero se va bene da qualche parte e quindi la carriera militare è più solida la carriera in generale delle forze dell'ordine è un'alternativa più solida per esempio tanto per dirne una ed è pieno il mondo di video Filippo di soldati che vanno e una volta che sono veramente lì si rendono conto che forse i loro ideali non erano così forti della serie sì sì mi piace il mio paese ma forse non così tanto ma forse c'è pure gente che è morta per difendere qualcosa sono pienamente consapevole di questo certo tanti anche ma non è che attenzione non è che sto sputando su quello che è il passato sto solo dicendo che da lì a dire che in guerra è contento di esserlo magari no oddio stai toccando un tasto strano eh Ster perché comunque quello di Pineschi è un discorso particolare golden chain sul mobiletto ragazzi devo aprire la wiki guarda in bagno magari là e a sto punto si vabbè il discorso è che le motivazioni di ognuno possono essere ho guardato bra non c'era le motivazioni di ognuno possono essere eccolo qua possono essere le più svariate e attenzione Filippo perché il fatto che tu la pensi in un determinato modo non significa che il ragionamento giusto sia quello perché è sempre una questione di punti di vista la stessa questione dei paesi che hai nominato tu tu hai scelto di stare da parte di uno liberissimo di farlo potrebbe essere la mia idea potrebbe non essere la mia idea ma tu hai scelto di stare da una parte perché ha deciso di stare dall'altra c'ha ragione l'ora certa gente non guarda proprio punti di vista Filippo non ti sto dicendo che sono da quella parte lì ma la cazzo mi ha visto preso in fronte bravo non ti sto dicendo di essere da quella parte lì però devi realizzare Filippo che la storia la scrivono i vincitori i romani sono stati numeri uno finché non lo sono stati più e di conseguenza il fatto che tu la pensi in un certo modo per certi tipi di ideologie è anche in parte perché ti è stato insegnato questo modo l'avresti vista probabilmente in maniera parecchio diversa anche i perdenti lasciano qualcosa certo infatti nel nostro mondo occidentale ti insegnano che gli americani hanno salvato l'Europa dalla minaccia dei nazisti in Russia ti insegnano che i russi hanno salvato l'Europa dalla minaccia dei nazisti punti di vista dato grazie del prime benvenuto dato bisogno di cibo adesso è vero da entrambe le parti lo so se non trovo del cibo immediatamente muoio beluga è vero Ragazzi Mia nonna è veneta Per mia nonna Gli americani sono degli eroi Perché lei se li ha visti Emergere dal Dal fiume per salvarla Ah ma certo Andre È proprio quello che ti dico È quello che dico La storia la scrivono i vincitori Voilà Era esattamente il mio punto Fin che non Riportavo Ah cazzo Ancora zero la fame Cazzo 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 Ci muoio qua Ancora solo sete Pure questo Ah è vero C'ho la golden star Numero uno Numero uno Grazie mille Attenzione eh Sia chiaro Stavo facendo un discorso Quasi filosofico Nel senso che Comunque poi Ognuno è libero di Ovviamente allineare I propri pensieri Con Una parte Piuttosto che un'altra Piuttosto che con una terza Quindi non è che sto dicendo Che hanno ragione Vincitori Sto dicendo che Convenzionalmente però Ci viene raccontata la storia Sempre da un punto di vista Capite cosa voglio dire Quasi inutile Riparare il braccio Ma vabbè Cinque Che cazzottino Sono fatte Se oggi abbiamo Testimonanzi del modo Di vivere in molti popoli Anche perché L'impero umano Inglobava E quando possibile Adottava l'usano No assolutamente Però Non è detto Che i vinti Fossero contenti Ecco No no Tutti i kit Il survival 12 È buono Ma il resto fa schifo Giacomo grazie mille Dei 14 Vale La storia un po' Deve interessare a tutti Sotto il bancone Non c'è una food case Mi dicono Non lo so Sotto il bancone Non c'è una food case Questa? No No Non c'è È questo? Comunque Spero di essere stato chiaro Nel mio discorso E non essere frainteso Che facile essere frainteso Non c'è Sapete che per me La live è anche Un punto di confronto Non c'è Ops 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 ん Ops 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 Comunque un Cristo lo tiro, perché porca la miseria maledetta ho comprato due milioni di chiave che poi non ho neanche utilizzato. Perfetto. Ovviamente la kill non conta, e te pare pure. No, allora, vediamo un attimo, perché qua la situazione potrebbe cambiare che devo fare meccanico livello 3, che è pronto, manca solo il livello. Personaggio, skill, mi mancano 50.000 punti di esperienza ed è già mezzanotte 20. Ed è già mezzanotte 20, quindi cos'è che posso fare veloce che mi dà un sacco di XP? Questa è la 12.000. Reserva con l'evento? Ma per cosa, Luca? Per gli scab, dici? Anche queste, le gunsmith. Skill livello 3, le gunsmith. Le gunsmith. Perché se riesco a fare il livello 30 prima di staccare la live, mettiamo gli upgrade dell'evento, che sono un miliardo. Appena facciamo... Appena tiriamo su... Meccanico, sono veramente un milione. Allora. 300k segna bene? No, perché skier dovrebbe avere dei pezzi. Appriamo la wiki. Ok. Ok. Vertical foregrip, questo scheletrato, davanti ci mettiamo lo spray, caricatore da 33 lo mettiamo dopo, che sennò si ingrandisce troppo e non mi sta nello stash. Tubo da carabina, calciatura la sua, non vedo mirini, buono così. Eh, infatti, la canna adesso posso comprarla. Perfetto, 100.000. Va benissimo. MPX. Mi serve l'MPX normale. Eccolo qua. Poi ci mettiamo lo scheletrato dietro, che è lui. L'anelator davanti. Ah, adesso si usa questa davanti. Questo grip. E la last hack. E vabbè. Consegniamo. Azz. Azz. E adesso? Azz. E adesso si soffre. Scambio P-Skipper, non posso farlo perché non ho le tag. Tag. Male. Ah, è inutile fare factory adesso per le tag. Inutile, inutile. È troppo tardi ora. Vabbè, però, vediamo un attimo a che punto siamo. No, Inox non le fa così le queste, Javelin. 30.000 di XP. Eh, non penso di farle in un ride. Certo, Market Distrips può essere. Allora, quale possiamo fare in fretta? Allora, nostalgia sono 16.000 di XP. Scusatemi un attimo. Colleghi è 12.000. Spature 7.000. Nostalgia è 16.000. Ultimo ride, ragazzi. Va come va. Allora, mi serve La 219 La cottage che costa cara Manco tanto Dov'è finita? Ma ragazzi, dov'è? Cottage Allora A posto Cottage 219 E andiamo Ultimo ride, signori Incrociate tutte le dita che avete Se va bene Non mi servono marker Non mi servono marker Se va bene Facciamo il 30 E chiudiamo la live Con l'ide out Che andrà a bestia Se va male Rimandiamo alla settimana prossima Poco male Rifacellato Yes Colpi ne ho abbastanza Album delle foto Generatori nelle wing I cottage I due cose Dei medici Quindi cottage Porto Attenzione che ci sono anche Gli invasati in giro La chiave per i generatori ce l'ho La chiave di cottage ce l'ho Silenziatore sulla pistola Che budget hai Eh sì Più o meno Eh sì più o meno sono le stesse L'ho fatta 15 volte 500 euro Perfetto Guarda il mio Costa 500 euro Vortex Ranger 1800 Non è il migliore del mondo Però per quello che serve a te Direi che va bene Anche perché Correggimi se sbaglio 400 metri Già stai tirando l'impossibile Sbaglio Figurati tombi Allora guarda io ho questo Ho questo qua E quello di Tarkov Per capirci Non è l'ideale Per quello che faccio io Perché le piastre Oltre gli 800 metri Inizia a far fatica Dentro vedi così E ti calcola già La distanza Comprensiva Dell'angolo Quindi dell'angolo di sito E È un 6x Fisso Iperfocale E puoi farci Quello che ti pare Direi che potrebbe essere Ciò che fa Al caso tuo Anzi Per me Secondo me puoi spendere anche di meno E visto che veramente tu spari Da vicino Vicino Ma poi tra l'altro Scusami Ma il telemetro Per cosa ti serve Esattamente Per sapere se sei sotto i 200 Ok Perché la distanza La caduta del proiettile Entro i 200 metri È Trascurabile Tu conta che Col 308 A 200 metri Il colpo cade di 10 centimetri Quindi 10 Dagli 8 ai 12 centimetri In base al peso della palla Però vuol dire che Tanto così Ok Dal wipe Nicotero Quindi trascurabile Se per sapere la distanza Per sapere se sei nei termini di legge È un altro discorso Però potrebbe non servirti Un telemetro Bellino Come questo Magari Con uno da 300 euro Te la cavi uguale Questo comunque È più che sufficiente Per le tue esigenze Molto 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 buono Meno Se sei uno che tira Tendenzialmente Tra i C'è un qualcosa lì Meno Se sei uno che spara Tra i 500 E i 1000 metri Stremo da 5 anni Cioè 4 anni avanzati Ma proprio qui Ma proprio qui No Su Tarkov bisogna tarare Perché la balistica È il doppio Ho tagliato la barba La balistica è il doppio Quindi in Tarkov Sparare a 200 metri Sparare come a 400 metri E se vuoi fare HS Lo manchi Facendo la pira di legna Si ingazzano tutti Diciamo che però Ma non è qua Non dovrebbe essere qua Ragazzi Ah no Può essere Si No no Confuso ragazzi Ah si ho confuso Va bene Va bene Va bene Va bene Però Se io dovessi individuare Uno di quei mostri cattivi Tipo quello Lo accoppo E scappo fortissimo L'altro è laggiù Come se niente fosse E scappo forte forte Ho fatto una questa in più Aiuto E scappo fortissimo Ho fatto un po' E scappo fortissimo Mi seguo per tutta la mappa Non credo No dovrebbero stare lì in realtà Proprio lì devono sparare mannaggia la miseria Ma ti è ammazzato da solo? Si è ammazzato da solo No non faccio cottage prima Scappo poi di lì Ha lanciato una granata Ha rimbalzato male E si è ammazzato da solo Alla prossima Andata bene kept Alla rossa Ci tuffiamo nella blu Vale Alla prossima Facciamo aspettiamo Come togliere la sala? Alla prossima Non fai rumore quando cambi spalla Cacchio potevo marcare la stanza del porco sopra No non posso curarmi al momento Lo so che non ho i marker Lo so Passi Passi Non ho le chiavi per quelli Napoli Hai ragione Hai ragione Li avevo Eh? Zia de Misi Eh? Si per chi non lo avesse capito Mi sono curato sul balcone Perché i suoni sono diversi Perché i suoni sono diversi Questo si è chiuso dentro Piano superiore Tres uno sei Ho riconosciuto in base alle cose che ha luttato Due casse militari Tre uno sei Tre uno sei Grazie. No, dal suo lato è libero. Grazie. E' sopravvissuto un colpo in testa. Grazie. Non si muove più, quella stanza è cieca. Fottuto. Ora mi servono le tue cure però, bro. Questa è anche una tag di quelle che ci servono tra l'altro. Questa è l'ultato tutto. Questa è l'ultimo. 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 da risolvere l'arma è ottima però non l'ha fatta ammazzarmi PS eh sì inutili wow capito bambini la 5.7 è meglio di una cup quel book è uno streamer item si grande sapevo che l'avrebbe aperta ok ragazzi streamer item vuol dire che è un oggetto dedicato a uno streamer si ha fatto le quest si d'altra parte però c'erano i cattivi col valle eccetera scommessa è secondo voi se ne sono andati questo ha aperto tutto comunque non ho non ho non ho non ho Sì era quello che mi interessava sapere e lo so che veniva da me devo scomparire ragazzi non sono andato a vederlo giro controller non c'era tempo avevi ragione poteva essere una bella idea ma buono così manca solo cottage ragazzi non devo fare cazzate adesso ho fatto anche un pms devo correre perché se questi hanno la rabbia e mi seguono no pezzo che parti di armi non esistono streamer item gli invasati erano ad auski erano al porto marco della ditta light keeper no light keeper facendo tutte le quest che ti portano alla quest network provider cercala sulla wiki il streamer item sarebbe un pezzo delle mie armi ormai ma quale quello col teschio non devo prendere ho sbagliato questo dovevo solo passare sui cadaveri sui richi Non li fanno più comunque gli streamer Landmark ha il veleno per topi Sì mi stavano sparando sempre gli stessi con l'M4 ragazzi C'è già la barba di uno streamer Sì ci sono anche i buffi Sì 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 Cosa ho fatto in questo ride? Cosa ho combinato? Eh? Ce l'abbiamo fatta ragazzi Eh il mio non arriverà mai Gunner Ho fatto tutto quello che c'eravamo pianificati Più una kill di PMC Più una questing Delle kill al porto Di quello dell'evento Quindi abbiamo PRAPOR EVIL SPIRITS FATTO THERAPIST COLLEGHI FATTO SKIER LANDLEASE PEACE KEEPER SPATOUR MECCANICO CHEMISTRY CLOSET Più giustamente Adesso che l'ho trovata aperta Mannaggia Ragman Nulla E Jäger Nostalgia Livello 30 Boys Meccanico livello 3 Aaaaaah Che episodio Che episodio Non c'è niente Meccanico livello 30 Vuoto Che raidino Birichino Ola Voila E adesso Cos'è che possiamo fare Adesso possiamo tirare Su la head out A bestia Proprio prima di staccare Quindi partendo dall'inizio Generatore Livello 3 Ora si può fare 1 2 3 Motori Non ho tanti soldi Però Vabbè 1 2 3 Non ho spazio Non ho spazio Del tutto Aiuto 3 6 10 E 6 Di queste 1 5 A posto E lui sale Però mi ha quasi fatto fuori Tutti i soldi Lui può salire Ma mi servono Soldini Intelligence center Non ancora Med station Non ancora Nutrition unit Adesso può salire Sufficiente 1 2 3 2 2 Di questi Vendere Qualche cavolo Ah posso Tirarlo su Rest space Mi serviva Skill Generator Shooting range Si può salire Stash Manca Ragman E poi può salire E i soldi Ovviamente Jaeger Ma serve Generator Ancora Weapon rack Serviva meccanico Ma la stash Livello 3 Bastardi Workbench Invece può salire Mi servono solo soldi Quindi al volo Parti che magari ho anche delle ricompense Infatti Guarda qua Questo costa Ok Più questi due Power filter 300k Lo posso ricomprare A meno Anche i PS Sono molto Cari Davvero Power filter Tutti quei soldi Ma va Perché così tanto Ah per la filtering unit Sono ancora lontano Quindi Voilà A posto ragazzi Questo conclude L'episodio di oggi Di inox Spero di avervi Intrattenuto A dovere Io mi sono divertito molto Penso che sia stato un episodio Bello ricco Quante queste abbiamo fatto Giusto per fare un attimo L'appello Ragman Zero Avevo promesso che le avrei fatte Zero Non è vero Una l'abbiamo fatta Una l'abbiamo fatta Poi Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciasette Diciotto Diciannove Venti Ventuno Ventidue Ventidue Quest Forse l'episodio Più ricco Di sempre Vi ringrazio Di essere stati con me Vi lascio appuntamento A domani Ovviamente con il Dal martedì Io appena mi ricordo Caricherò questo episodio Sul tubo Grazie Arrivederci E adios E i titoli di coda Non funzionano Giustamente Perché Come sapete Mi si è bloccato tutto Quindi Vediamo se riesco a recuperare Io Allora Grazie Procu 90 Stefano CS2 Procu 90 Salo Callo Hitsu Yaga Robot Warrior Versus Mal di schiena Fabio Forti Gabbo Ster Falb Sorrow Drumster Gumpla Mickey Yale Moxie Offensive Titus Sevest Lele E allora Mister Starnuto Baka Montana Dado Giacomo Prince Nassi E buon'olte Adios